Coronavirus, nessun contagio in Molise, Toma, niente allarmismo, sia responsabilità, la situazione è sotto controllo e ancora la nostra rete dell'emergenza funziona, stretto giro una nuova ordinanza, nessuna interruzione delle attività amministrative, scuole aperte e col governo già si ragiona dei danni, risultato negativo al test del coronavirus il ragazzo di 29 anni che aveva febbre alta prelevato ieri pomeriggio alla stazione di Termoli e trasferito dal 118 al Cardarelli, 8 i tamponi fatti fino ad ora e solo ai sintomatici, 55 le persone sotto osservazione, tensione tra Toma e il ministro Lamorgese sui 190 allievi poliziotti di Piacenza in quarantena preventiva, sono centinaia i molisani già tornati in Molise domenica, mille telefonati ai centralini del 118, numeri verde dedicati a chi rientra a casa dalle zone del cordone sanitario o dalle regioni interessate da almeno un caso, Brasiello protezione civile pronta ad intervenire, massimo impegno per l'elettrificazione della ferrovia e per la bretella tra Sesto Campano e Mignano Montelungo, ma scordatevi l'autostrada, questo in estrema sintesi il pensiero del sottosegretario per infrastrutture e trasporti Salvatore Margiotta giunto a Isernia questa mattina su invito del Partito Democratico. Vigili del fuoco in azione a Termoli per un vasto incendio divampato vicino ai binari della ferrovia, traffico ferroviario interrotto per diverse ore e poi ripristinato. Infine lo sport, il calcio di Serie D, il big match tra Mastogirardi e Matelica si disputerà al Lancellotta di Isernia, Campobasso e Agnonese già in clima derby, Brenci con i nostri tifosi tutto è possibile, Allegra, siamo forti e rendiamo tutti dalla stessa parte. E allora buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso, in apertura lo avete sentito anche dai titoli, c'è un'ampia pagina dedicata al coronavirus in arrivo, una nuova ordinanza da parte del Presidente della Regione, Donato Toma lo ha annunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa indetta per fare un po' il punto della situazione, incidente diplomatico poi rientrato con il Ministro dell'Interno Lamorgese per l'arrivo dei 190 allievi agenti da Piacenza, inoltre con il Governo si sta già ragionando sui danni all'economia. In apertura sentiamo Rita Iacobucci. Niente panico, in Molise non c'è al momento nessuna ragione di allarme. È una regione in emergenza, lo Stato dichiarato dal Governo nazionale per sei mesi da gennaio, ma non in allerta per l'epidemia coronavirus. Lo ribadisce più volte il Governatore Donato Toma nel punto stampa convocato a Palazzo Vitale insieme al Commissario dell'Asrem Scafarto e al Direttore del quarto Dipartimento che ha competenza sulla protezione civile, Brasiello. Dopo il confronto col Governo nazionale in arrivo una nuova ordinanza, spiega Toma, e alcuni contenuti relativi alla prevenzione sanitaria soprattutto, per esempio l'obbligo di dichiarare la propria presenza sul territorio per chi rientri da zone in cui ci sia stato anche un solo caso accertato di coronavirus, erano già previsti nell'ordinanza che il Presidente del Molise ha emanato lunedì. Fare una nuova ordinanza non appena verrà validata a livello della conferenza dei Presidenti quella tipo che abbiamo concordato col Governo, però vi anticipo che la nuova ordinanza in realtà non è diversa dall'ordinanza che ho fatto io, è più specifico, agli studenti diciamo di non preoccuparsi, non le fate le gite scolastiche, fino al 15 di marzo sono sospese poi vedremo, avremo modo di recuperare. Le scuole in Molise sono aperte, quindi per ora problemi non ne abbiamo, lavarsi sempre le mani, acqua e sapone in primis, se si starnutisce non starnutisce, non starnutite in faccia al compagno di banco, ma come dicevano le nostre nonne, starnuto a gomito, nel gomito e sono questioni anche di semplice educazione. Cerchiamo di evitare luoghi estremamente affollati. Rientrato poi un incidente diplomatico col Ministro dell'Interno dell'arrivo degli allievi agenti da Piacenza, rivela Toma, la Regione non era stata affatto informata. Ci siamo chiariti non solo col Ministro dell'Interno, in realtà devo dire che la collaborazione che abbiamo instaurato con il questore, con i medici della polizia è stata talmente pregnante, talmente stretta, talmente collaborativa che abbiamo superato molto bene anche questo piccolo difetto di informativa. Tutti se lo augurano, il Molise magari non avrà alcun caso di coronavirus oppure, come sembra in realtà probabile ce ne saranno, ma senza conseguenze. Passata l'emergenza, questo però è certo, resteranno i gravissimi danni all'economia anche di questa Regione. Sul punto, assicura Toma, è stato già sollecitato il Governo nazionale. Abbiamo chiesto che il Governo cominci a preoccuparsi degli interventi di natura economica perché i danni sono enormi, ingenti. Abbiamo danni al turismo, abbiamo danni all'economia italiana, abbiamo danni ai rapporti con gli altri paesi, ma i danni economici veramente sono ingenti. Stiamo per ora sollecitando il Governo a trovare fondi, prima di tutto per le regioni che hanno subito più direttamente il problema, ma anche per noi molisani. Perché? Perché la limitazione degli spostamenti danneggia gravemente il nostro turismo. La rete pubblica di emergenza della sanità molisana funziona, ha rivendicato la commissaria Asrem Virginia Scafarto, ringraziando tutti gli operatori al lavoro in queste ore. 55 le persone in quarantena domiciliare, 8 i tamponi fin qui eseguiti e tutti negativi. Test solo ai sintomatici e l'appello a rivolgersi ai numeri dedicati per non intasare il 118 o l'ospedale. Ancora Iacobucci. Mille chiamate al 118 nella sola giornata di domenica. Il contenuto il più vario. Tantissimi di rientro dalla zona rossa, i comuni del cordone sanitario, ma anche da quella gialla, i luoghi dove si è registrato anche un solo caso di coronavirus e in realtà per area si intende regione. Genitori di universitari che sono tornati da Milano, Torino, Padova per esempio dopo la chiusura degli Atenei, ma anche richieste assai meno legittime o logiche di essere sottoposti al tampone solo per paura alla fine. Per questo l'Asrem e la regione hanno attivato i numeri 0874 409 000 e 313 000 dedicati alle persone che stanno rientrando in Molise dalle aree a rischio coronavirus. La rete di emergenza pubblica sta funzionando, sottolinea con orgoglio la commissaria dell'Asrem Virginia Scafarto. Non nasconde le carenze soprattutto di medici e operatori sanitari, ma il sistema tiene e tiene se lo si usa in maniera appropriata. Dunque, chi è stato nei comuni del cordone sanitario è in quarantena. Se manifesta sintomi viene sottoposto al tampone, ma solo in quel caso. Emergenza e prevenzione hanno sotto controllo la situazione ancora Scafarto, come dimostra l'episodio del 29enne prelevato a Termole appena sceso dal treno, poi negativo. Sono 55 le persone in sorveglianza domiciliare in Molise. Con 37 e mezzo di febbre, per esempio, non si effettua il test. Se però, nell'arco dei tre giorni, la situazione evolve in maniera negativa, si accerta l'eventuale contagio. L'appello della manager campana è restare tranquilli. Non c'è alcuna ragione di farsi prendere dal panico in Molise. Se ci sarà un caso, sottolinea ancora, siamo in grado di fronteggiarlo. La prevenzione è comunque vincente. Lavarsi le mani bene, spesso, starnutire nel gomito, già che il coronavirus si trasmette via droplets le goccioline di saliva. Mantenere una distanza più adeguata dalle persone nei luoghi affollati, che sono regole poi anche di buonsenso. La fornitura di tamponi per il momento è sufficiente, garantisce Scafarto. In caso servissero, li acquisterà la protezione civile. Dai medici di famiglia, in particolare da uno dei sindacati, dei medici di famiglia, prima frontiera dei cittadini che manifestano sintomi o anche solo preoccupazione, ha avuto assicurazione di una reperibilità fino alle 20. In una riunione alla direzione salute si concorderà un protocollo più organico. A capo dell'ASREM, in via transitoria da novembre, Virginia Scafarto si è guadagnata sul campo la permanenza al fianco del neo-DG Florenzano, che si insedierà il 29 febbraio, ma che è già in costante contatto con Scafarto e Toma per l'emergenza coronavirus. Toma non lo ufficializza, non potrebbe, perché tocca al direttore generale decidere, per esempio, la carica del direttore sanitario, ma da Palazzo Vitale si esce con la sensazione che sarà così. Ed è risultato negativo al test del coronavirus il ragazzo di 29 anni che aveva febbre alta prelevato ieri pomeriggio alla stazione di Termoli e trasferito dal 118 al Cardarelli di Campobasso. Toma rassicura tutti, la situazione è sotto controllo, la rete dell'emergenza funziona, è stata testata. Vediamo. Caso risolto in meno di quattro ore, il tempo necessario per sottoporre il 29enne tornato in Molise sul treno Milano-Taranto ai accertamenti del caso. Il tampone risultato negativo, il ragazzo aveva febbre alta, 39.40, precisa il commissario ASREM Virginia Scafarto. L'allarme è scattato ieri pomeriggio. Il ragazzo si è autodenunciato alla stazione di Termoli ad attenderlo. C'era il personale medico del 118 con mascherina, camice lungo e guanti. Immediato il trasporto al Cardarelli di Campobasso, poche ore e tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Tranquillizzati anche i 79 passeggeri che erano sul convoglio diretto in Puglia. La macchina dell'emergenza funziona benissimo, l'abbiamo testata. Il governatore Donato Toma nel corso della conferenza stampa di questa mattina lo ripete più volte. Niente allarmismo, sottolinea sia la responsabilità sia la prevenzione. In Molise la situazione, aggiunge il presidente della regione, è sotto controllo. Non ci sono casi di contagio e non c'è lo stato di allerta. Bisogna solo utilizzare buonsenso e fare prevenzione. Poi parla dell'azione del governo centrale, superficiale all'inizio ma ora ha recuperato. Per questo ieri a Roma ha incontrato i parlamentari di Forza Italia per convincerli a votare il DPCM di Conte perché nell'emergenza dice che bisogna rimare tutti nella stessa direzione. Delegata all'acquisto di dispositivi di protezione test, la protezione civile regionale monitora il fabbisogno insieme all'ASREM. Siamo il braccio operativo dell'autorità sanitaria, che ha detto il neo capo dipartimento Manuel Brasiello, pronti a eventuali triage fuori dagli ospedali e ad assistere la popolazione. Ascoltiamolo, lo ha intervistato Rita Iacobucci. La protezione civile, lei diceva, è il braccio operativo in questo momento dell'autorità sanitaria. Cosa avete approntato, già sperando naturalmente che non serva? Torno a ripetere, noi abbiamo in questo momento messo a disposizione tutte le attrezzature e tutto quanto necessario per dare assistenza alla popolazione nell'eventualità in cui dovesse venire fuori un'emergenza che in questo momento non abbiamo. Però ci siamo organizzati e siamo pronti ad affrontare situazioni. Principalmente siamo a disposizione dell'autorità sanitaria che in questo momento conduce di fatto l'emergenza nazionale, non regionale e quindi la stiamo supportando per tutto quanto necessario loro dovessero aver bisogno in termini di acquisti di DPI, disposizione di protezione, mascherine. Oggi sono andate a ruba e quindi ci stiamo attrezzando per questo. Stiamo facendo una ricognizione dei fabbisogni, siamo pronti e aspettiamo indicazioni da parte dell'autorità sanitaria. Siete pronti eventualmente anche ad allestire tende per il pretriage davanti agli ospedali? Assolutamente, come dicevo sono state sanificate tutte le tende e se dovesse essere necessario un triage davanti a quello che la dottoressa ritiene debba essere lab, è lab in questo momento, cioè davanti al Cardarelli, possiamo farlo in qualunque momento anche ad Oras. Stiamo aspettando che ce ne fosse eventualmente la necessità. Laddove poi si dovesse verificare in una ipotesi di maggiore necessità anche quella di raggiungere altri presidi ospedalieri con le stesse modalità. Quanto riguarda i 55 soggetti sotto osservazione, siete stati già coinvolti magari per qualche tipo di assistenza nei loro confronti? No, per quanto riguarda questo assolutamente no. Le modalità sono quelle dell'ASREM, sono quelle che la dottoressa ha illustrato durante la conferenza, quindi non c'è stata assolutamente necessità di dover intervenire. Ma anche in quel caso abbiamo tutta la parte della struttura e tutto il volontariato che è stato allertato e che se dovesse essere necessario sono pronti a poter fronteggiare anche questo tipo di emergenza. Quindi la macchina lei la sta rodando in questi giorni, che giudizione dà? Allora io come sapete sono veramente pochi giorni che sono venuto a capo del Dipartimento IV dove anche la protezione civile è inserita, ma è una macchina che funziona, è una macchina rodata, è una macchina che da anni affronta emergenze sempre in prima fila e in maniera egregia devo dire. Per cui veramente c'è stata poca necessità di dover intervenire in maniera diciamo decisa. Tutti gli operatori sanno perfettamente cosa fanno giorno per giorno, sono con una disponibilità incredibile e per cui sono molto contento di come ho trovato in questo momento la situazione. Restiamo sull'argomento, parlano il pediatra e l'infettivologo, situazione importante ma controllata sono le rassicurazioni che arrivano dai esperti, parla anche Aldo Di Giacomo, sul carcere di Campobasso non si registrano particolari emergenze. Cristina Niro Coronavirus è l'apertura dei giornali e telegiornali, siti online ed è l'argomento principale di cui si parla, fino anche per strada o nei bar. Dopo il decreto emergenza del 23 febbraio con il quale si attuano misure per contrastare il contagio, si è sviluppata un'ulteriore apprezzione rispetto al Codiv 19. La paura delle conseguenze del contagio infatti sta creando soprattutto confusione e spesso allarmismi fuori luogo. La situazione certamente deve essere sempre presa con grande attenzione, però i vari presidi sanitari, quindi presidi ospedalieri, la continuità assistenziale, l'emergenza del 118, i medici, i colleghi di medicina generale, i colleghi pediatri, siamo pronti ad affrontare questo tipo di problematica. Certamente non è assimilabile a quello dell'influenza perché tante cose di questo virus non si conoscono ancora, anche se ci sono delle notizie anche dal punto di vista scientifico, come posso dire, ancora frammentarie. È pur vero che la mortalità non è molto alta, però questo virus ha un'altissima contagiosità. Allora il messaggio che deve partire oggi qual è? Che bisogna dire ai cittadini, usate le precauzioni che vi sono state dette in maniera martellante in questi giorni. E allora perché la chiostra delle scuole e dei luoghi pubblici, il Codiv 19, è un virus nuovo per il quale la popolazione mondiale non possiede gli anticorpi e quindi il rischio è che ad ammalarsi sia tutta la popolazione nello stesso momento. La preoccupazione quindi non nasce da quello che il coronavirus potrebbe comportare a livello di patologia, ma dalla risposta che la sanità nazionale non potrebbe dare a tutti i malati. Dottore Colarocchio, invece sotto l'aspetto pediatrico, qual è la situazione? Io mi sento di tranquillizzare le mamme. Per i dati che abbiamo, perché dobbiamo attenerci da dei scientifici, i bambini si ammalano molto meno di forme gravi rispetto agli adulti. sotto i 9 anni non abbiamo praticamente a livello mondiale, nemmeno in Cina, nessun bambino ricoverato in terapia intensiva per colpa del coronavirus e sotto 9 anni nemmeno un bambino è morto per il coronavirus, nemmeno in Cina, in tutto il mondo. Quindi i bambini hanno una forma molto più leggera. Non sappiamo il motivo perché questo succeda, ma questo ci deve sicuramente tranquillizzare. Cioè nonostante bisogna mantenere alto il livello dell'attenzione perché spesso, come succede per altre malattie, i bambini possono essere gli untori, insomma, possono avere una forma molto leggera e magari poi trasmettere il virus agli adulti, specialmente ai nonni, magari ai nonni che non stanno poi così bene e quindi far correre a loro più rischi. Il coronavirus quindi non è un virus letale, non è pericoloso più di un'influenza se non per le persone che corrono rischi anche per l'influenza. Il problema principale è che le persone a rischio per l'influenza possono vaccinarsi. Per il coronavirus no, visto che un vaccino non esiste, sotto controllo anche la situazione nelle carceri. Le carceri molisane sono una situazione assolutamente di tranquillità, la viviamo in modo soreno, c'è molta preoccupazione da parte dei poliziotti e dei detenuti, ma mi sento assolutamente di tranquillizzare. Massimo impegno per l'elettrificazione della ferrovia e per la bretella tra Sesto Campano Emignano, Montelungo. Abbiamo cambiato argomento, ma scordatevi l'autostrada. Questo in estrema sintesi il pensiero del sottosegretario per infrastrutture e trasporti Salvatore Margiotta, giunto a Isernia questa mattina a suo invito del Partito Democratico. Lo ha intervistato Nicola De Santis. Il Partito Democratico non crede che la bretella di Cepagna possa aiutare il Molise a superare l'isolamento, meglio concentrarsi su una infrastruttura che dalla fine della variante conduca a Mignano-Montelungo, direttamente sull'autostrada. L'ANAS sta lavorando in questa direzione, mentre la regione Molise mostra un certo disinteresse sull'argomento. Lo ha dichiarato il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta, giunto a Isernia su invito del PD. Il lavoro che sta compiendo ANAS, in raccordo almeno fino a qualche mese fa con la regione Molise, ANAS ha scritto chiedendo alla regione di sottoscrivere la convenzione che metta a disposizione qualche milione di euro per la progettazione. Per la verità negli ultimi mesi non c'è stato riscontro da parte della regione a questa nota. Ho sentito proprio questa mattina, prima di venire qui, i vertici di ANAS e naturalmente il mio impegno è, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, convocare un incontro tra ANAS, regione e ministero per riprendere l'iter di questo progetto che è la soluzione giusta dal mio punto di vista e anche dal punto di vista di chi ci sta lavorando per risolvere un tema annoso che riguarda la vostra regione, Isernia in particolare. Ingegnere civile, senatore del PD eletto in Basilicata, Margiotta ha ascoltato con attenzione le stanze provenienti dal territorio. Tra queste l'elettrificazione della ferrovia, in particolar modo dalla provincia di Isernia verso il Lazio. Il sottosegretario ha assicurato il massimo impegno del governo per risolvere una questione divenuta ormai annosa. I lavori di elettrificazione sono in corso, c'è un progetto di 155 milioni di cui 80 finanziati per elettrificazione. Determineranno una serie di grandi miglioramenti per la rete e dunque c'è soltanto da far sì che tali lavori vadano velocemente avanti. Per uscire dall'isolamento il Molise ha un bisogno vitale dell'autostrada. Tuttavia il senatore Margiotta con grande chiarezza spiega che il collegamento autostradale tra Termoli e San Vittore non è propriamente tra le priorità, per usare un eufemismo, del suo governo. Noi pensiamo che la via più utile, più opportuna e anche più concretamente realizzabile è esattamente quella a cui facevo riferimento prima, è utilizzare la variante di Venafro per connettersi all'autostrada principale e poi arrivare a Roma. L'Acem Ance Molise chiede per l'ennesima volta un incontro all'assessore all'agricoltura Nicola Cavaliere per discutere dei PSR, delle programmazioni future, dei pagamenti e degli aspetti di interesse delle imprese edili. L'associazione lamenta come da quasi un anno sta attendendo un appuntamento mai ottenuto che si rende oggi più che mai necessario per fare il punto della situazione sui programmi di sviluppo rurale per poter informare le aziende associate. La cronaca vigili del fuoco di Termoli all'opera nella tarda mattinata di oggi per un incendio che è divampato tra la linea ferroviaria ed il costone che da via Cossica raggiunge Rio Vivo. La linea ferroviaria è stata per alcune ore interrotta e poi solo dopo le 13.30 il servizio è ripreso. Le fiamme lambiscono anche alcune strutture commerciali che affacciano vicino alla strada ferrata oltre a sprigionare fumo vicino alle abitazioni sul posto anche il sopralluogo degli agenti della polizia ferroviaria decisivo ovviamente l'intervento dei vigili del fuoco. Restiamo sulla costa. Si fingono persone per bene, ben vestite ma non lo sono affatto. In tre sono stati avvistati in periferia a Termoli ed in centro a compiere misfatti. Due furti con scasso in pieno giorno compiuti rispettivamente tra via dei Castagni, zona sud, con trada Casa la Croce e via Mario Pagano, attraversa a pochi metri dal centro e dalla stazione ferroviaria. State vedendo le immagini che spiegano più di ogni altra parola. In entrambe le circostanze gli appartamenti sono stati messi a suo quadro ed il legittimo sospetto è che i malviventi sapessero i movimenti dei proprietari. Giorni fa un altro tentativo in via dei Castagni, sempre nel medesimo palazzo in cui hanno agito questa mattina. Sul posto sono intervenuti rispettivamente i carabinieri della compagnia di Termoli e gli agenti del commissariato di polizia. Una squadra dei vigili del fuoco di Campobasso questa mattina è intervenuta per mettere in sicurezza un'auto alimentata a GPL finita contro la recinzione in muratura di un'attività commerciale lungo la strada statale 17 in agro di Vinchiaturo. L'occupante, una donna, è stata trasportata in ospedale dagli operatori del 118 per le cure del caso. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause del sinistro. L'emergenza coronavirus ha comportato l'annullamento di molte iniziative, anche istituzionali, tra queste il tavolo della Unilever di Pozzilli in programma ieri al Ministero dello Sviluppo Economico. L'attenzione del governo sull'azienda resta alta. Ha dichiarato il portavoce del Movimento 5 Stelle Antonio Federico. Lo staff della sottosegretaria Alessandra Todd che sta seguendo tutti gli incontri sulla Unilever ha confermato che la prima data utile per il nuovo tavolo è stata fissata per mercoledì 4 marzo. L'incontro con i rappresentanti di azienda, sindacati e regione si terrà in videoconferenza alla luce delle disposizioni del Ministero dello Salute proprio in riferimento al coronavirus. E a circa un mese dal trasferimento della dottoressa Cinzia Guercio a Cosenza il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Lamorgese ha provveduto a nominare il nuovo rappresentante del governo Aisernia. Si tratta di Vincenzo Callea, prefetto di prima nomina, nato a Palermo il 1 settembre del 1963. Proviene dall'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dove ha ricoperto il ruolo di vice prefetto con la manzione di capo ufficio nel settore relazioni parlamentari. Stiamo ad Isernia per parlare di lavori pubblici con l'annuncio del vice sindaco Pietrangelo che ha detto ecco i bandi, bandi che riguardano la sistemazione della frana di via occidentale, la ricostruzione della San Pietro Celestino e la messa in sicurezza della San Giovanni Bosco. Nicola De Santis. Sono tre i bandi pubblicati in questi giorni dal Comune di Isernia per opere importanti per la collettività ed attese da tempo. Il primo, come annunciato dal vice sindaco Cesare Pietrangelo, riguarda la manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori finalizzati alla ricostruzione delle mura di via occidentale, mura crollate nel marzo del 2013 e che finalmente potranno vedere nel corso dell'anno la loro sistemazione grazie ad un finanziamento stanziato dalla Giunta regionale di circa 200.000 euro. Altro importante bando è quello relativo al progetto esecutivo e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione sostenibile dell'edificio scolastico Scuola Elementare San Pietro Celestino in Piazza Volta nel centro storico di Isernia. Il bando prevede lavori di riqualificazione sostenibile dell'edificio scolastico, intervento possibile a seguito del finanziamento di 3 milioni di euro concesso dal MIUR a novembre del 2017. L'opera consiste nella demolizione totale dell'edificio esistente, la ricostruzione dell'immobile su tre piani, di cui uno interrato in cemento armato, e due fuoriterra con struttura portante in legno al fine di elevare il livello di sicurezza strutturale connesso alle azioni sismiche. Infine il terzo bando è quello relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori per il recupero funzionale e strutturale dello storico palazzo che ospita la San Giovanni Bosco in Corso Garibaldi, il cui finanziamento di quasi 5 milioni di euro per il primo lotto è stato ottenuto con decreto del MIUR del 27 dicembre 2017. I lavori serviranno soprattutto a mettere in sicurezza l'edificio sotto il profilo sismico. Colgo l'occasione, ha dichiarato Cesare Pietrangelo, anche assessore ai lavori pubblici, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei bandi. Solo un lavoro di squadra può far raggiungere positivi ed importantissimi risultati per la città, ha concluso il Vice Sindaco. Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Vediamo che tempo farà domani sul Molise. Previsioni del tempo per giovedì 27 febbraio. Il fronte instabile, giunto ieri, si muove velocemente verso sud, richiamando a sé correnti di maestrale che rinnovano qualche fenomeno sul basso versante adriatico. Meglio dal pomeriggio, ma entrosera tornano le nubi, con nuove precipitazioni sui settori tirrenici ed appenninici. Queste le temperature nei maggiori centri della regione, Campobasso minima 2, massima 7 gradi. Sernia, temperature comprese tra meno 1 e 12 gradi. Termoli, minima 8, massima 13 gradi. Benafro, minima meno 0, massima 13 gradi. Bene, tutto per questa edizione. La nostra informazione torna questa sera alle 19.30, sempre in diretta con la collega Valentina Ciarlanti. Ora linea alla regia. Subito dopo c'è la pagina sportiva. Parleremo del derby di domenica che si giocherà al Romagnoli tra Campobasso e Olimpia agnonese con le due squadre che sono già in clima derby. Parleremo anche del Vasto Girardi che giocherà contro il Matelica all'Ancelotta di Sernia. A fare i puntati anche sul basket di Serie A2. tra pochissimo. Lo sport. Parliamo del Campobasso, meno 3 dalla vetta dopo l'esploda di Montegiorgio. la consapevolezza di avere la chiara possibilità di centrare la Lega Pro. Il centrocampista dei Lupi, Leonardo Brenci, è sicuro che con al fianco i nostri tifosi tutto può succedere. Brenci parla dell'ultima gara giocata e vinta a Montegiorgio, ma anche del derby in programma domenica al Romagnoli. Sentite. I nostri tifosi sono eccezionali. Anche oggi sono venuti in gran numero. Speriamo che adesso la prossima in casa contro l'Agnonese sarà una bolgia. Il campo aveva un Manterboso non ottimale. Loro erano in 11 gli arrolli nella palla e quindi le nostre caratteristiche venivano un po' a mancare. Il nostro gioco palla a terra. Abbiamo provato anche le conclusioni dalla distanza però alla fine è andata bene così. A mio avviso questa è stata una delle partite più difficili del campionato però con tranquillità e soprattutto compattezza siamo riusciti a portarla a casa. Io più che pressione direi entusiasmo perché aver recuperato una situazione che all'inizio anno era veramente difficile. Adesso trovarci lì è tutto molto bello e dobbiamo sfruttare ogni secondo, ogni occasione, ogni momento per raggiungere qualcosa che a mio avviso sarebbe eccezionale. Questa è la prima cosa. È un derby, giochiamo nel nostro stadio. La curva quando dal campo si alza l'occhio e si vede tutta quella gente è una spinta in più e speriamo che sia ancora più piena delle ultime giornate. Ora parliamo dell'Agnonese con Allegra, con Emanuele, Allegra tutto campo dal pari Corille Vasto Girardi al derby di domenica contro il Campobasso. Siamo pronti e forti. Le sue parole, sentite. Si riparte dalla prestazione. Quella c'è stata, una prestazione di sostanza da grande squadra, forse meno bella del solito ma molto concreta. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita una delle migliori da quando sono qui abbiamo dato tutto fino alla fine e secondo me, se non dico due rigori ma uno ce ne stava sicuro arrivavamo su tutte le palle prima abbiamo fatto una partita cattiva quando si poteva giocare abbiamo giocato e resta il rammarico che abbiamo lasciato due punti però veramente sono orgoglioso di questa squadra che non molla mai l'ennesima volta che siamo andati in svantaggio subito l'abbiamo ripresa abbiamo avuto tante occasioni per passare in vantaggio e veramente sono felice di questo gruppo di tutti, staff, presidenti, tutti perché veramente remiamo tutti alla stessa parte sono orgogliosi dei miei compagni Il gruppo alla base dei successi dell'Olimpia agnonese che punta con decisione ai play-off uno dei punti di forza della squadra di Pizzi e Rullo è senza dubbio Emanuele Allegra professione difensore goleador e in particolare rigorista infallibile anche se domenica ha gonfiato la rete con un gran colpo di testa Sinceramente volevo ringraziare i miei amici mister, tutti che mi danno fiducia soprattutto a calciare i rigori perché non è una cosa facile Pablo, tutti gli attaccanti mi danno fiducia a far calciare spero che questa fiducia la sto ripagando e poi lo volevo fare un gol di testa mi dispiace perché ero ancora più felice se vincevamo però a me non mi importa dei gol mi importa che la squadra va avanti vinciamo e facciamo bene lo stiamo facendo e secondo me stiamo facendo non un grande, un grandissimo campionato Da un derby all'altro domenica scorsa il Vasto Girardi tra qualche giorno il Campobasso alle Romagnoli Granata contro la squadra più in forma del campionato reduce da 17 risultati utili di fila ma l'Olimpia è pronta a dare battaglia Noi viviamo partita per partita domenica c'è stato questo derby e ci siamo fatti trovare i pronti Penso che da quando sono qui ci siamo sempre fatti trovare i pronti domenica prossima sicuramente ci faremo trovare i pronti se sarà una guerra facciamo la guerra se si gioca a calcio giochiamo a calcio siamo consapevoli delle nostre qualità umili ma sappiamo che siamo forti e siamo un grande gruppo è la cosa principale che siamo tutti uniti dalla stessa parte Il Vasto Girardi giocherà tutte le prossime gare interne Sino a quando non sarà disponibile il Ditella al Lancellotta di Isernia ad ufficializzare la decisione è stato il presidente Andrea Dilucente alla base della scelta alcune frizioni con l'Olimpia gionese sulle tariffe di accesso allo stadio Civitelle da domenica in campo a Lancellotta dunque queste le dichiarazioni del numero uno del Vasto Girardi Andrea Dilucente che domenica Isernia riceverà la visita della prima della classe dal calcio di Serie D al basket miglior realizzatrice della sfida col Livorno l'esterna della Magnolia Campobasso Elisa Mancinelli fa il punto della situazione in casa Rosso Blu intanto tutti i campionati nazionali di basket sono stati sospesi dalla federazione la giocatrice intervistata da Franco Presutti che dire di questa gara insomma è stata relativamente facile avete surclassato le Toscane come da pronostico? sì diciamo un ottimo test complessivo sia in attacco che soprattutto in difesa abbiamo concesso 37 punti quindi diciamo un ottimo test soprattutto siamo rientrati al completo con Lucia Di Costanzo che ha avuto qualche problemino quindi diciamo bene dai anche San Martino ha preso la sua buona dose di applausi sì 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 finalmente è giusto che anche lei si prenda degli applausi perché poi diciamo le giovani sono sempre quelle che non appaiono apparentemente ma poi si allenano e con noi tutta la settimana fanno gli stessi numeri di allenamento quindi è giusto che anche loro vengano gratificate senti dopo la pausa siete pronte per affrontare queste Final 8 di Coppa Italia di A2? beh sicuramente abbiamo tempo per preparare ora dobbiamo staccare una, un po' e poi da martedì inizieremo a pensare a Carugate e sì dai siamo cariche quest'anno dal 6 all'8 diciamo che il Piemonte diventa un centro importante per il basket femminile sì saranno tre giorni di basket a Moncalieri e speriamo venga gente e ci auguriamo di fare del nostro stasera il pubblico tutto in piedi negli ultimi minuti sì vabbè qua sono spettacolari sono il sesto nostro uomo e ci seguono sempre anche a Dariano sono venuti in tantissimi e ci danno sempre il giusto sostegno la giusta carica quindi è giusto che disputiamo partite del genere anche per loro prima dei saluti vi ricordo l'appuntamento di domani sera alle 21 con Molise Sport ospite tra gli altri il responsabile dell'area tecnica del Campobasso Luigi Mandragora appuntamento alle 21 con Franco Presutti e i suoi ospiti Molise Sport è tutto anche con l'informazione sportiva che torna dopo il Tg delle 19.30 grazie buon pomeriggio arrivederci a presto a presto a presto a presto